Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, ricostornati in questo nuovo video, si sono quasi pelato, ma vabbè, poco importa. Andiamo subito con il video ragazzi, c'è anche chiaro ovviamente, come avrete sicuramente scoperto dal titolo oggi, torniamo a parlare di Pandora. Avviamo questi due pacchetti e andiamo super insieme. Dove copro gli dati sensibili. Sei tu sensibile. Andiamo con l'apertura. Allora, partiamo da questo. Uuh, mi hanno messo praticamente tutto qua. Partiamo col primo pezzo, ovvero l'anellino di Mimmi. Che carino! Allora, questo è l'anellino di Mimmi che andrà in coppia con un altro anello che poi vi faccio vedere. Ho preso una misura 54, perché la misura 56 c'era, però poi vi spiegherò. Voi mi raccomando, nel video contate quante volte dirà carino, le contiamo insieme. Ecco qua un altro pezzo, adesso ve lo faccio vedere. Ovvero, un altro anello. Eccolo qua, questo è l'anellino di Topolino. Anche lui, misura 54. Allora, rispetto all'altro, ragazzi, questo anello è andato a ruba. Sono andata a vedere sul sito adesso, mentre sono rimaste soltanto le misure più piccole, ma le misure più grandi non ci sono più. E adesso vi faccio vedere una cosa bellissima. Allora ragazzi, io sapevo che questi due anellini andavano tipo a incastro. Cioè, Topolino si incastrava qui. Però non ho capito perché non vanno a incastro. Comunque, questi qua sono i primi due anellini. Qui c'è un terzo pezzo. Allora, ho preso questo qua. Ovvero, il cerchietto di Minnie. Quindi questo ordine prende tutto a base Disney. È bellissimo, molto molto bello. Questo è la parte, diciamo, che va sul bracciale. Qua c'è scritto così e qua ovviamente ci sarà scritto, esatto, Disney. È molto molto bello anche lui. Ora vi faccio vedere queste altre due cose, perché sono due. Ora ho preso questo, che voi direte che cos'è? Praticamente, semplicemente, il misura anelli. Allora, siccome io porto una misura 54-56, però alle volte non si capisce, allora ho comprato questo, che voi, questo costa tipo 10 centesimi. Voi praticamente lo andate a chiudere in questa maniera, così. Lo infilate nel dito, non so se si capisce. Insomma, provate dalla vostra misura del dito. Esatto, stringete in base, appunto, alla vostra misura. Vi uscirà la misura. Partiamo dalla parte succulenta. Voilà! Guardate, questo è un anello meraviglioso. È una fascetta. Eccola qua. Ma la particolarità di questo anello è questo. Allora, voi vedete a tre, no? Così. Con sotto scritto Pandora. Non so se si legge. Noi possiamo fare anche questo. Ovvero, così. E può diventare così. Oppure... Oppure in questo modo. Cioè, ragazzi, questo anello è molto versatile. Adesso me lo provo e vediamo se mi sta. Mi aspettavo che dicesse più volte carino, ma comunque fuori video ho letto ancora due volte molto bello. Quindi siamo già a quota 4. Questa è una misura 56. Quindi, di solito le fasce bisogna prendere sempre una misura in più. In realtà, mi sta... Io di solito qui porto una 54, mentre qua una 56 mi sta anche qua e non... Cioè, non mi sta a largo. Ovviamente, questo va a portare... Può essere portato così. Può essere portato così. Sì, secondo me, detta francamente che non ne capisco niente. Portatelo come volete. O anche così. Io faccio vedere tutte le varie possibilità. Questi ragazzi sono tutti i pezzi che ho preso da Pandora. Qua c'è il signo di Pandora, non serve a niente. L'unico charme che ho preso, appunto, è questo. Perché ce l'avevo già in Wish da un po'. E ho preso tutti i anelli, semplicemente perché li utilizzo un po' di più. Aspettate che ve li giro. Adesso questo qui devo capire il perché non va a incastro. Io sapevo che andava a incastro con questo, ma vabbè. Se voi lo sapete, scrivetecelo sotto nei commenti. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Lasciate un like, ovviamente, per dare la vostra opinione al video. Se vi è piaciuto, se vi sono piaciuti gli acquisti che Chiara ha fatto. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao! Ragazzi, prima di chiudere, ho capito come incastrare i due anelli. Ovviamente si prende, appunto, questo e questo. E il topolino va, praticamente, inserito sotto. Non so se riesco. Ecco qua. Vente inserito sotto. Ovviamente voi, quando poi andate a incastrare, a mettere il dito, vi viene questo. Che bello! Allora, abbiamo preso tutto dal sito. Ovviamente ci sono gli sconti, i saldi estivi. Quindi tutto questo che vedrete è preso con i saldi, appunto.